Ecco allora ci colleghiamo e speriamo di avere subito le immagini a copertura della sua voce con Maurizio Molinari che è il corrispondente della stampa dagli Stati Uniti. Andiamo già con le immagini in diretta da, ecco perfetto, dal luogo della caccia all'uomo. Abbiamo sentito nel servizio di Gabriella Caimi con chiarezza tutto quello che è successo. A te Maurizio un commento e quello che si temeva ma che si riteneva a questo punto remoto è proprio quello che si sta verificando. La matrice potrebbe essere quella islamista? Sì, la matrice islamista interna dall'indomani dell'11 settembre la maggioranza degli attentati, tentati o riusciti contro gli Stati Uniti, sono avvenuti da parte di musulmani cresciuti o educati all'interno degli Stati Uniti. Dalla cellula nell'Upstate New York di Yemeniti fino al maggiore Hassan che fece strage in una base in Texas fino a Faisal Shahzad, il pakistano americano che tentò di far esplodere una bomba di fronte a un teatro pieno di bambini a Times Square nel 2010. Sostanzialmente è questo il maggior pericolo alla sicurezza nazionale e quanto è avvenuto qui a Boston con i due fratelli di origine cecena, lo conferma, entrambi appartengono a una famiglia che è uscita dalla guerra, scappando dalla guerra andò in Kazakis anche se rivisto per gli Stati Uniti, è stata integrata qui, tutti e due hanno studiato in college dell'area di Boston, hanno rapporti con le famiglie americane e quindi il vero pericolo per l'FBI era che scomparissero all'interno del tessuto sociale americano. Questo non è avvenuto per la sparatoria di ieri sera che ha portato alla svolta nella caccia all'uomo, ma il problema che rimane da un punto di vista della sicurezza per gli operatori americani è quello della radicalizzazione islamica della comunità musulmana americana. Senti Maurizio, a questo punto però è immaginabile che la svolta degli eventi porti a un'ulteriore drammatizzazione e all'erta che ritornerà alta nelle principali città d'America, ci si era orientati a pensare a una pista interna, purtroppo ci sono stati appunto i tanti episodi che tu conosci meglio di tutti noi in questi anni, soprattutto nelle zone dei campus universitari. Qui siamo per paradosso vicino a due delle più grandi università d'America e delle più famose del mondo, ma si tratta di tutt'altro. Assolutamente, ed è verosimile che anche il sistema di soveglianza verrà rafforzato. Noi ricordiamo che solamente alcuni mesi fa la polizia di New York venne messa sotto accusa per un sistema di ascolto di tutte le comunicazioni private degli studenti di origine musulmana nei campus del Pre-State, attorno alla grande città americana. Ed è verosimile che adesso quel metodo venga applicato anche in altre zone del paese. C'è però una domanda alla quale adesso gli investigatori devono rispondere, se questi due fratelli ceceni abbiano agito da soli oppure se sono stati in qualche maniera in contatto con un'organizzazione che si trova all'esterno degli Stati Uniti. Questo è un elemento non secondario, perché ad esempio ricordiamo che alcuni degli episodi prima citati di musulmani americani vennero eterodiretti dalle cellule di Al-Qaeda nello Yemen. Ora, il capo di Al-Qaeda in Yemen, che era egli stesso un cittadino americano, è stato eliminato due anni fa dai droni americani con un blitz. Se dovesse essere confermato che i due fratelli ceceni sono stati anche loro ai territori diretti, ciò potrebbe significare che un'organizzazione esterna sta di nuovo tentando di colpire gli Stati Uniti. Allora, grazie a Maurizio Molinari che risentiremo ovviamente questa sera o prima se ci sarà un aggiornamento. A proposito, ultima domanda, è previsto che per l'incalzare degli eventi ci sia un nuovo intervento dello stesso capo della Casa Bianca, di Obama, come è successo nei giorni scorsi? Ma fino a quando continua la caccia all'uomo è verosimile che il Presidente resti in silenzio. In questo momento il focus è tutto su Watertown, come prima bene il servizio è riempilogato, nel timore che il secondo terrorista si faccia saltare in aria tentando di uccidere il più alto numero di persone possibile. Quando la caccia all'uomo sarà conclusa il Presidente parlerà. E' ancora tutto bloccato? E' stato bloccato interamente il traffico viario e ferroviario attorno alla zona della caccia all'uomo? Sì, il motivo è sempre il timore di attentati suicidi da parte del terrorista. Si vuole creare il minor numero di persone contemporaneamente presenti in uno stesso spazio, no? E questa è la sostanza. Si vuole evitare che trovi un mucchio su cui sparare, su cui suicidarsi. Assolutamente sì, per questo sono stati bloccati i trasporti pubblici. E' doveroso ricordare che erano ceceni i terroristi della più orrenda delle stragi che noi ricordiamo a livello internazionale, quella di Beslan, e ovviamente... e non solo quell'altra, di cui si è avuto minore notizia, che sono avvenute, ad esempio quella del teatro di Mosca. Quindi i timori sono fondati riguardo alle attitudini purtroppo dei kamikaze ceceni. Assolutamente. E questo spiega anche come è stato trasformato dalla polizia nell'arco di pochi ore l'uso dei pullman. Se i pullman prima trasportavano, fino a ieri sera trasportavano normali cittadini da una stazione all'altra, adesso invece sono stati tutti sequestrati e vengono usati per trasportare centinaia di agenti attorno alla zona di Watertown. Quello che sta avvenendo a Watertown è impressionante. Stiamo parlando di un'area di 20 isolati circondata da centinaia di agenti, macchine e blindati dalle forze speciali.